ciao amici acquariofili i pesci lima sono parenti stretti dei pesci balestra dei pesci scatola e dei pesci palla il loro nome comune deriva dalla loro pelle molto ruvida pelle che in passato veniva essiccata per essere usata come carta vetrata con cui rifinire le barche dei pescatori i pesci lima sono anche noti con nome di giacche di pelle o fuoco di santo antonio ciao